In questa puntata di Unicam News, una serie di appuntamenti ha coinvolto Unicam a Milano per Expo. Ricordato Giacomo Venezianne, workshop sulla codificazione postunitaria. Conosciamo i partecipanti di Startup Marche 2015, inaugurazione della nuova sala dedicata alla bellezza naturalistica del Parco Nazionale dei Monti Sibillini. A tutti voi ben ritrovati a questo appuntamento settimanale con Unicam News, fin qui i titoli, adesso i servizi e le notizie. Il territorio dell'Alto Maceratese è rappresentato dalla consulta permanente per lo sviluppo comprendente oltre ad Unicam e anche i comuni di Camerino, Castel Raimondo, Fabriano, Matelica, Pieve Bovigliana, San Severino Marche, Tolentino, le Unioni Montane Altevalli del Potenza e del Lesino, dei Monti Azzurri, Marca di Camerino, nonché la Fondazione Cassa di Risparmio di Macerata, è stato protagonista per un'intera settimana dal 19 al 26 ottobre presso Expo Milano negli spazi di Cascina Triulza, riservati ad Anci Marche. Nell'occasione è stato presentato il paniere di lunga vita, un originale prodotto di promozione enogastronomica, culturale e territoriale, che attraverso la collaborazione tra enti locali, università ed aziende, racconta uno dei territori più longevi d'Europa. Anche nel mese di giugno Unicam aveva partecipato ad attività legate a Expo, infatti assieme ad alcune aziende del territorio presso lo spazio Elica in zona Brera, è stato possibile esporre e far conoscere al grande pubblico Expo, luoghi, bellezze, sapori del territorio. Nei giorni scorsi presso la Scuola di Giurisprudenza dell'Università di Camerino si sono tenuti due importanti incontri dedicati, il primo a Giacomo Venezian e il secondo ad un approfondimento sulla codificazione post-unitaria. A entrambi gli appuntamenti, oltre a docenti Unicam e molti ospiti nazionali ed internazionali, ha preso parte il giudice costituzionale Paolo Grossi. Il ricordo di Giacomo Venezian, a cento anni dalla morte, è stato introdotto dal direttore della Scuola, professor Antonio Flamini, dal prorettore, professor Andrea Spaterna e dalla professoressa Carlotta Latini, mentre l'approfondimento è stato affidato alla dottoressa Alicia Venezian, a Rieta e il giudice Grossi. Il workshop sulla codificazione post-unitaria 1865-2015 è stato invece introdotto dal direttore della Scuola di Giurisprudenza Unicam, professor Flamini, e ha visto la partecipazione di docenti Unicam, mentre le conclusioni sono state affidate al professor Pietro Rescigno, professore merito dell'Università La Sapienza di Roma. Grande personaggio, un civilista che merita di non essere dimenticato, perché era un civilista, diciamo così scherzosamente, presbite, cioè vedeva molto lontano, anticipava quello che sarebbe stato il futuro di un itinerario di ricerca scientifica e anche di vita legislativa. Cento anni fa parve che fosse un eretico, perché in realtà sembrano eretici quelli che sono anticipatori. In realtà era un anticipatore, cioè anticipatore vuol dire un personaggio che non guardava soltanto entro il chiuso del Regno d'Italia, ma che guardava per esempio al di là dei confini, non solo in Europa, ma in Europa continentale intendo dire, ma in quel pianeta diverso che era allora il mondo anglosassone, dove un diritto, il common law, aveva veramente delle radicazioni e delle formazioni molto diverse dal diritto dell'Europa continentale. Sotto questo profilo Veneziano è stato uno dei primi comparatisti. Ha creduto che la conoscenza si arricchiva per il tramite della comparazione. Gli dobbiamo essere grati. L'Università di Camerena ha fatto molto bene a celebrarlo in questa giornata, con la presenza fra l'altro degli eredi di Venezian che sono venuti addirittura dal lontanissimo Cile. Oggi inauguriamo una nuova rubrica, dire, fare, innovare, dedicata a partecipanti della Business Plan Competition Startup Marche 2015. Studenti e ricercatori che hanno presentato le loro idee imprenditoriali a contenuto innovativo. Ricordiamo che Startup Marche è organizzato dall'Università degli Studi di Camerino, in collaborazione con il Comune di Civitanova Marche e la Camera di Commercio di Ascoli Piceno, la CNA Marche Sud e Fidimpresa Banca Marche, l'Ordine dei Commercialisti di Macerata e Camerino. A inaugurare la rubrica i vincitori di Startup Marche 2015, Limix, con il dispositivo Talking Hands, strumento capace di migliorare la qualità della vita per i non udenti. Il progetto è Talking Hands, la Startup è Limix. Il nostro progetto ha l'ambizione e l'obiettivo di riuscire a fare integrare le persone sorde nella società, grazie a un nostro dispositivo che fonde hardware e software ad hoc per il riconoscimento gestuale, quale permette di tradurre e portare la lingua dei segni, da semplici gesta a vera e propria voce, grazie a un sintetizzatore vocale che è presente sui nostri smartphone. Il sito è www.limix.it, è in costruzione ma trovate tutte le informazioni principali. L'idea è nata mentre stavamo studiando e così diciamo quasi dal nulla ho una pausa caffè. Sostanzialmente si è vista da subito il risvolto sociale dell'idea e si è scelto di continuare insieme questo percorso. Ricordiamo che in Limix si è aggiudicato anche il premio nazionale GESCOM e nel mese di dicembre prenderà parte all'edizione del premio nazionale dell'innovazione che si terrà a Cosenza. Nell'ambito della settimana del Pianeta Terra 2015 presso il Polo Museale dell'Università di Camerino si è tenuto un seminario dal titolo alla scoperta della geologia dei Monti Sibillini. Dopo l'introduzione della professoressa Maria Chiara Invernizzi, direttore sistema bibliotecario e museale Unicam di Oliviero Olivieri, presidente del Parco dei Monti Sibillini e del prolettore professor Andrea Spaterna, del professor Emanuele Tondi, responsabile della sezione di geologia della Scuola di Scienze e Tecnologia Unicam, si sono susseguiti gli interventi del professor Piero Paolo Pierantoni, docente della Scuola di Scienze e Tecnologie, di Gabriele Achille Naturalista, dottorando della Scuola di Bioscienze e Medicina Veterinaria. Al termine è stata presentata ed inaugurata la nuova sede espositiva del Museo di Scienze Unicam dedicata alle bellezze naturalistiche dei Monti Sibillini. E con questo è davvero tutto, vi salutiamo, vi diamo appuntamento ovviamente al prossimo mercoledì alla stessa ora. Vi ricordiamo che potrete trovare altre notizie e curiosità sull'attività degli studi dell'Università di Camerino sul sito www.unicam.it. Buona serata.